Un ricco organizza una festa Regalo 10 milioni a chi ha il coraggio di buttarsi nella mia piscina piena di coccodrilli Nessuno? Allora 10 milioni e la mia Ferrari Nessuno? Allora 10 milioni, la Ferrari e lo yacht Bravissimo, che coraggio! Cosa vuoi per prima? I 10 milioni? No, non voglio i tuoi soldi Allora vuoi la Ferrari? No, non voglio la tua macchina Allora vuoi lo yacht? No, non voglio la tua barca Ma allora cosa vuoi? Voglio quel testa di cavolo che mi ha spinto in piscina Ti propongo una sfida Io ti farò una domanda e se non saprai rispondere mi darai 5 euro Poi tu mi farai una domanda e se io non saprò rispondere ti darò 5 euro Non vale, lei è una professoressa, vincerà di sicuro Ok, allora facciamo così Se tu non saprai rispondere mi darai 5 euro Ma se io non saprò rispondere ti darò 100 euro Ok, allora gioco Qual è la distanza tra la Terra e la Luna? Non lo so, ecco i 5 euro Ora tocca a me Qual è quella cosa che sale per una collina con 3 gambe e scende con 4? Cavolo, è una domanda difficilissima, non la so Ecco i 100 euro Però adesso sono curiosa Qual è quella cosa che sale per una collina con 3 gambe e scende con 4? Non lo so, ecco i 5 euro Voi siete contenti del vostro aspetto fisico? Io no, neanche io Allora seguitemi, andiamo a lamentarci dal nostro creatore Eccoci in paradiso, è lì che sta l'onnipotente Ok, entro io per prima Cara giraffa, cosa ti spinge fin qui? Non mi piace il mio collo, potresti cambiarlo? Il tuo collo è bellissimo, è anche molto utile per poter raggiungere le foglie più alte Sei perfetta così Hai ragione! Caro elefante, cosa ti spinge fin qui? Non mi piace il mio naso, potresti cambiarlo? Il tuo naso è stupendo, è anche molto utile per poter bere l'acqua Sei perfetto così Hai ragione! Ragazzi, siamo venuti qui per lamentarci e voi uscite tali e quali a prima, eppure contenti Il creatore ci ha fatto capire che siamo perfetti così Vabbè, ora vado io Cara gallina, anche tu vorresti cambiare aspetto? Guarda che sei perfetto Eh no, non mi freghi, le cose sono due, o mi fa il c***o più grosso o l'uovo più piccolo Chi ti ha dato 200 euro? Me li ha dati un signore Quale signore? Non so chi sia E perché te li ha dati? Perché stamattina l'ho visto davanti a una casa d'appuntamenti e gli ho detto So cosa hai fatto! E lui mi ha dato 100 euro E gli altri 100? Oggi pomeriggio ho visto lo stesso signore che stava entrando in casa sua e io gli ho detto Ha! Adesso so anche dove abiti e lui mi ha dato altri 100 euro Sei cattivo! Non si ricattano le persone! Adesso vai in chiesa, ti confessi e doni quei 200 euro Ancora tu! Ha ha! Adesso so anche dove lavori! Non mi servi più come colf! Sei licenziata! Ah sì? Ma lo sa che suo marito dice che sono più brava di lei a cucinare? Non mi interessa! E lo sa che suo marito dice che stiro meglio di lei? E allora? Dice anche che pulisco e faccio le lavatrici meglio di lei! Non mi interessa! Non riavrai indietro il tuo lavoro! Ah! Sono anche più brava di lei sotto le coperte! Cosa? Te l'ha detto mio marito? No! Me l'ha detto l'idraulico! Scherzavo! Non sei licenziata! Anzi! Vuoi un aumento? Padre! Abbiamo bisogno di 30 euro per i poveri! Ok! Me li farò dare da quelli che si vengono a confessare! Padre! Mi perdoni! Ho peccato! Ho commesso adulterio! Quante volte? Tre! Dica una preghiera e metta 10 euro nella cassetta delle lemosine! Padre! Mi perdoni! Ho peccato! Ho commesso adulterio! Quante volte? Tre! Dica una preghiera e metta 10 euro nella cassetta delle lemosine! Padre! Mi perdoni! Ho peccato! Ho commesso adulterio! Quante volte? Una! Vada fuori e lo faccia altre due volte! Oggi abbiamo tariffe speciali! 3 per 10 euro! Quest'orso sta per mangiarmi! Oh mio Dio! Pof! Onnipotente! Ha fermato il tempo per potermi salvare? Non hai mai creduto in me? E adesso vorresti che ti aiutassi? In effetti sarebbe pochita da parte mia chiederti di considerarmi cristiano! Ma forse puoi rendere cristiano l'orso! Va bene! Pof! Che bello! Si è messo a pregare! Sono salvo! Signore! Benedici questo cibo che sto per ricevere e per il quale ti sono molto grato! Mi serve qualcosa per tagliare gli alberi! Ho questa ottima motosega! È in grado di tagliare 30 alberi al giorno! Ok! La prendo! Lei mi ha mentito! Con questa motosega riesco a tagliare solo 15 alberi al giorno! Strano! Riprovi ancora e vedrà che ci riesce! Niente da fare! Con molta fatica sono riuscito a tagliare solo 20 alberi in un giorno! Ok! Proviamola un po'! Strano! A me questo rumore non lo faceva! Papà! Voglio sposarmi! Haha! Ma certo! E con chi? Con la nonna! Ha detto che mi vuole bene! E anche io le voglio bene! Inoltre cucina benissimo! E racconta delle favole stupende! Bravo bambino! Ma c'è un problema! Quale? Tua nonna è mia madre e non puoi sposare mia mamma! Perché no? Tu non hai sposato mia mamma! Facciamo il gioco del perché? Come funziona? Io ti dirò delle cose e tu dovrai rispondere senza dire la parola perché! Facile! Iniziamo! Perché sei vestito? Per non sentire freddo! Bravo! E perché andiamo a scuola? Per imparare! Ottimo! Perché i tavoli sono piatti? Se così non fosse le cose sopra cadrebbero! Bene! E perché di notte è buio? Per via che manca la luce del sole! Uffa! Io smetto di giocare! Perché? Haha! Ho vinto! Due matti in manicomio! Basta! Non ne posso più di stare qui! Dobbiamo evadere! Sì! Ma come facciamo? Questo manicomio ha 100 cancelli da scavalcare! Non importa! Proviamoci! Abbiamo scavalcato 10 cancelli! Sei stanco? No! Abbiamo scavalcato 30 cancelli! Sei stanco? No! Abbiamo scavalcato 50 cancelli! Sei stanco? No! Abbiamo scavalcato 99 cancelli! Sei stanco? Sì! Ok! Allora torniamo indietro! Avete a disposizione un desiderio a testa! Io e mio marito abbiamo 60 anni e siamo sempre stati poveri! Quindi vorrei che fossimo ricchi! Pof! Desiderio esaudito! Adesso nel vostro conto ci sono tantissimi soldi! E tu cosa desideri? Scusami cara, ma io desidero avere una moglie 30 anni più giovane di me! Pof! Desiderio esaudito! Adesso hai 90 anni! Veterinario, il mio vecchio cavallo è un mese che non cammina più! Cosa possiamo fare? In questi casi, se non si alzerà, dovremmo abbatterlo! Cavallo, il veterinario ha detto che se non ti alzerai ti abbatterà! Grazie per avermelo detto! Il cavallo è in piedi! Wow! Miracolo! Dobbiamo fare festa! Ammattiamo il maiale! Morale, fatti sempre i cavoli tuoi! Papà, voglio andare a fare fortuna in Germania! No, non sei capace di fare nulla! Resta qui, ti aiuteremo io e tua mamma! Ma papà, hai visto Mario? È partito ed è tornato con la BMW! E Franco è partito ed è tornato col Mercedes! Va bene, mi hai convinto! Ti darò i nostri risparmi per partire! Dopo due mesi, Kenny spende tutto e torna a casa! Papà, sono tornato! Evviva! E con cosa sei tornato? Col treno! Col treno? E dove lo mettiamo? Tre fratelli al funerale! Papà, era così buono che gli ho lasciato 100 euro dentro la bara! Io gli ho lasciato 500 euro! Io gli ho lasciato 1400 euro! Cavolo, bravo! Ma come mai hai 600 euro in mano? Perché dentro la bara ho messo un assegno da 2000 euro e mi sono preso il resto! Mi dispiace, dobbiamo amputarle tutte e due le gambe! Cosa? Ma è impazzito? Guardi, lo so che è sconvolto, ma non c'è altra soluzione! Faccia come vuole! Ma sappi che se mi taglia le gambe, io in questo ospedale non ci metto più piede! Salve! Per San Valentino vorrei inviare queste mille cartoline profumate con la scritta Indovina chi sono? Mille cartoline profumate con la scritta Indovina chi sono? Tutte a indirizzi differenti? Certo! Scusi, ma perché lo sta facendo? Le piacciono così tante persone? Ma no! Lo faccio perché sono un avvocato specializzato in cause di divorzio! Stiamo insieme da molti mesi, ma è la prima volta che mi inviti da te! Bau! 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 Scusami per il cane! È geloso! E quando c'è un ragazzo in camera mia, incomincia ad abbaiare! Bau! 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 Sofia, puoi far star zitto il cane? È da settimane che abbai a giorno e notte! Angelo, voglio creare qualcosa di nuovo! Mi sembra un po' nervoso oggi! Non vorrei che facesse delle cose di cui si potrebbe pentire! No, no! Stai tranquillo! Voglio fare qualcosa che possa essere messo sulla pizza! Mmm! Sembra una cosa buona! Ah! Che però possa anche far venire allucinazioni! Ma cosa? È sicuro? E che possa anche far fuori la gente! Ma, ma! Tutto ok, capo? E fu così che l'Onnipotente creò i funghi! Capo, per oggi è meglio che si fermi con la creazione delle cose! No, vorrei crearne ancora una! Oh, no! Vorrei fare una cosa che possa convincere tutti a spruzzarsi sostanze chimiche su se stessi e anche a schiaffeggiarsi la faccia! Ma è impossibile! E fu così che l'Onnipotente creò le zanzare! Cara, stanotte non torno! Rimango a dormire dal mio migliore amico! Cara, perché sei arrabbiata? Non sapendo a quale amico ti riferissi! Allora, stamattina, ho chiamato tutti i tuoi migliori amici per chiedergli se avessi dormito da loro! E quindi? Sei mi hanno detto che avevi dormito da loro! E altri cinque mi hanno detto che ancora ti trovavi lì! Com'è andato il tuo viaggio in Inghilterra? Molto bene! Ma lì la gente è strana un bel po'! Hanno dato dei nomi senza senso alle loro cose! Davvero? Sì! Hai presente i Pullman? Quelli a due piani, alti alti? Sì! Beh, loro li chiamano Bass! Ma roba da matti! E hai presente le loro strade larghe? Sì! Beh, loro le chiamano Street! Incredibile! E sai come chiamano i cavalli? Horts! Sono proprio matti! E le donne? Sai come le chiamano? No! Le chiamano Uomene! Pazzesco! E poi lì la gente ti offende a caso! Un giorno ho comprato una caramella e il negoziante mi ha detto Fai sense! A quel punto mi sono arrabbiato e gli ho detto E tu fai schifo! Bravo! Hai fatto bene! Amiche e amici! Se adorate i miei contenuti non vi lasciate scappare il mio nuovo libro Fatti una risata! Lo trovate in tutte le librerie e online! Prendetelo! Ne vale la pera!